Da Fossalta di Portogruaro è stato firmato il protocollo del piano delle acque del comune di Portogruaro. Infatti, in seguito al maltempo di queste giornate, le emergenze idrauliche sono all'ordine del giorno. E quindi, al centro dei servizi della provincia di Venezia, Mestre, l'assessore provinciale all'ambiente e alla difesa del suolo, Paolo Dallavecchia, ha firmato il protocollo d'intesa per il piano delle acque con il comune di Fossalta di Portogruaro. Presenti per il comune c'erano il sindaco Paolo Anastasia e la responsabile dell'area tecnica urbanistica edilizia privata e ambiente Rosa Gentile. La progressiva attuazione dei piani delle acque permette di mettere in una lente di ingrandimento su quelle che sono le vere criticità del nostro territorio. Il piano delle acque comunale di Fossalta di Portogruaro è attualmente in fase di realizzazione ed è stato cofinanziato in parte dalla provincia di Venezia con un contributo di 9.000 euro.